Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Come vi avevo promesso, eccoci qua con il deck farm per Zane. Video che non voglio far durare tantissimo per il semplice fatto che l'avrei dovuto postare minimo due giorni fa, se non tre, e con i vari impegni, con piccole problematiche, insomma, non sono riuscito a caricarvelo. Ho preferito poi ieri caricarvi un altro video a posto di questo, perché mi sembrava più fresco, più che vi potesse interessare, e mi ha fatto anche piacere sentire nei commenti che vi è appunto piaciuto. Ovviamente fatemi sapere anche se questo video è gradito, anche se molto, ma molto in ritardo. E comunque niente, penso che ormai tutti quanti già starete farmando Zane come dei porcellini, e fate bene, anche se le carte, a mio parere, che da Zane non sono questo granché, e ne tengo anch'io veramente poche poche, però mi impegnerò anch'io per ottenerlo. Ho provato vari deck, questo ve lo devo dire, e penso che questo sia l'unico deck che possa portarci il più vicino possibile agli 8000 punti, perché con i vari deck nessuno, insomma, ci faceva arrivare a questi benedettissimi 8000, anche perché Zane è veramente, veramente difficile da sconfiggere. Mentre con questo deck ce la caliamo veramente benissimo. L'unica pecca, e se sapete, siete più informati di me, fatemi sapere nei commenti, io utilizzo l'abilità di Chaz, che è previsione di livello basso. E diciamo che devo subire, mi sembra, 1800 punti. Fatemi vedere perché è da un po' che non lo vedo. Sì, 1800 punti, che non è difficile perché Zane gioca dei mostri da 1800 direttamente, comunque si evoca il Cyber Drago e ci fa 2100 diretti, quindi l'attivo lo stesso. Però se ci fosse qualche abilità che mi permette di ottenere il Cerbero con, diciamo, con meno danni in confronto a 1800, già 1500 sarebbe meglio. Fatemi sapere, io velocemente ho visto, ho visto che Chaz aveva questa abilità, ho visto che alla fine dei conti la riuscivate a giocare lo stesso, e ho detto, vabbè, resto così, ma se sapete che c'è qualcuno di meglio, perché potrei anche non avere come skill, però, diciamo, fatemi comunque sapere. Il deck è molto semplice, è un deck Cerbero classico, quindi ci vuole il Cerbero che viene pompato a livelli stratosferici e poi attacca diretto. Questa volta non si usa l'arco delle stelle, o come si chiamava lui, che levava addirittura qualche punteggio d'attacco, ma si gioca direttamente Spada di Bambù Maledetta, carta nuovissima dall'espansione Primal Burst, carta fortissima che va in combo con le altre spade di bambù che escono dall'espansione Primal Burst, che vi consiglio di acquistare, soprattutto se siete degli amanti del Darkhold, proprio come me. Allora, che carte giochiamo? Ovviamente tutte magie, perché? Perché il Cerbero si pompa di 500 punti d'attacco ogni volta che viene attivata una magia, però se attacca dopo la battaglia, praticamente ritorna ai suoi punteggi originali, e al suo punteggio originale, quindi 1400. Il Cerbero si trova dal commerciante di carte, poi abbiamo il Ryoku che si trova sempre dal commerciante di carte, che serve semplicemente per dimezzare l'attacco di un altro mostro qualsiasi e dare quei punteggi d'attacco al nostro Cerbero, quindi per incrementare semplicemente il nostro Cerbero. Poi abbiamo il 2 Per di Ricerca della Pietra Magica, che vi dissi tempo fa che era una carta un po' inutile, e infatti lo era, solo che per farmare risulta una carta molto buona. Dice, scarta due carte per poi prendere una carta magia nel tuo cimitero e aggiungerla alla tua mano. Principalmente ci serve per riprendere Spada di Bambù Dorata, che ci fa pescare direttamente due carte dal deck, quindi combo fortissima, e scartare due carte con questo deck che ho fatto io non è molto difficile. possiamo scartare sia Corno dell'Unicorno, che principalmente l'ho inserito proprio per essere, cioè per scartarlo, e se non lo scartiamo comunque va a pompare di 700 più 500, di 1200, scusatemi, il nostro Cerbero, che non è poco. Si ottiene dall'evento, questa si otteneva farmando qualcuno che non mi ricordo chi, il controllo avversario si ottiene farmando Seto Kaiba o con i coupon SE super rari, e gioco il 3x semplicemente perché è carta che ci può aiutare veramente tanto, in più tengo un controllo avversario che è Prismatio, quindi mi dà un ulteriore punteggio, eccetera eccetera, carta molto buona che vedremo anche insieme. Il 3x di Maglio Magico, per il semplice fatto che ci fa rimescolare la mano e comunque attiviamo una magia, quindi carta comunque buona, e poi abbiamo il nostro comparto delle spade che è veramente pesante. Perché? Perché spada di bambù spezzata semplicemente si equipaggia ad un mostro e guadagna 0 attacco, quindi non serve praticamente a un cazzo. Ma perché serve? Perché se abbiamo una carta equipaggiamento spada di bambù appunto sul terreno, evocando spada di bambù dorata, peschiamo direttamente 2 carte, quindi abbiamo ben 3 carte che ci fanno pescare 2 carte tipo Anfora della Verità, però senza dover aspettare. In più abbiamo spada di bambù maledetta, ve lo riassumo che cosa fa questa carta, sempre equipaggiamento, il mostro guadagna sempre 0 attacco e dice che puoi scegliere come bersaglio un'altra carta spada di bambù sul terreno e farla tornare nella tua mano. Se fate questa cosa, il mostro equipaggiato con questa carta può attaccare direttamente il vostro avversario. Perché è buona? Prima di tutto perché attacchiamo diretto con il Cerbero, seconda cosa perché riattiviamo la carta magia che ci facciamo tornare in mano e pompiamo ulteriormente il nostro Cerbero. Infatti con questo deck il Cerbero si pompa, cioè basta giocare un solo Cerbero e pomparlo al massimo. Poi ha anche un altro effetto che è se questa carta praticamente viene scartata al cimidero puoi aggiungere una spada di bambù dal tuo deck alla tua mano, eccetto ovviamente una spada di bambù maledetta. Questo che vuol dire che se scarto la spada di bambù grazie a ricerca della pietra magica andrò ad aggiungere spada di bambù dorata dal deck e una dal cimidero grazie a ricerca. Quindi raga, guardate, deck veramente ottimo per farmare, lo andiamo ovviamente a provare insieme anche se ho salvato 3-4 replay dove ho vinto veramente alla grande in tantissimi modi, quindi potrei farvi vedere anche direttamente i replay. Adesso lo andiamo a farmare insieme, vediamo come va, male che va dovesse capitare perché può capitare che Zayn di primo turno ci gioca il cyberdrago, doppio cyberdrago, la fusione, ci attacca direttamente due volte, se non abbiamo il cebro perdiamo il duello. È l'unica eventualità che ci può far perdere il duello, ma vi assicuro che su 10 partite mi è capitato due volte che lui mi ha fatto questa combo e che mi ha praticamente battuto in questo modo. Cosa che non accade, ma se accade vi faccio vedere comunque i replay che mi sono salvato e risolviamo ogni problema. Allora, inizia il nostro avversario e questa cosa va benissimo per noi. Abbiamo il cerbero come prima carta e anche questa cosa va benissimo. Ci gioca un 1800 e a noi va bene anche questa cosa. La cosa che non ci va bene è un po' questa mano. Perché dico che non ci va bene? Per un semplice, semplicissimo fatto che non posso fare nessuna combo al momento. Quindi, maglio magico, rimandiamo queste due carte. La terza spada ce la teniamo perché se peschiamo appunto un'altra spada di bambù risolviamo il problema. Ecco qui, spada di bambù. Andiamo a pompare ulteriormente il nostro cerbero. Perfetto. Possiamo giocare la spada dorata, praticamente. Peschiamo ulteriori carte e ci possiamo settare anche il nostro controllo controllo avversario. Quindi, abbiamo un 2009 che non può essere praticamente già più buttato giù. Ma, se anche il nostro avversario dovesse giocare una fusione più grossa del nostro 3004, noi lo andiamo a bloccare grazie al nostro controllo avversario. Cosa che non è successa. Quindi, da muo in poi, il duello praticamente è concluso. Già adesso io potrei fare tante cose. Ad esempio, giocare ricerca della pietra, scartare sia il cerbero che non mi serve a un cavolo, sia il riruoku che alla fine dei conti non è essenziale e andare a prendere di nuovo spada di bambù dorata. Ma, non lo faccio. Perché? Perché ho ben due spade dorate nel deck e mi basterà aggiungere una spada maledetta, la scarto e vado a fare un più uno e vado a sfoltire ulteriormente il deck. Ecco qui, che culo. Allora, giochiamo ricerca della pietra magica, ecco qui. Andiamo a scartarci, ovviamente, spada di bambù maledetta e il cerbero che non ci interessa e andiamo a prenderci la spada dorata, la spada di bambù dorata. Dovrebbe farmi attivare anche l'effetto, fatemi vedere. Esatto. Effetto di bambù maledetta, attiviamone l'effetto e andiamo ad aggiungere dal nostro deck un'ulteriore carta dorata, cioè spada dorata di bambù, spada di bambù dorata come cavolo vi pare. Intanto, con questa combo andiamo a levare ben cinque carte dal nostro deck. Perché una l'abbiamo aggiunta con la spada maledetta, quattro le aggiungiamo attivando le due spade dorate, praticamente, io direi che è una cosa allucinante. andiamo ad attivare ancora la terza spada di bambù dorata e possiamo addirittura prenderne un'altra con ricerca della pietra magica. Perché adesso io mi fermo e non faccio come si può dire lo sborrone? Per il semplice fatto che voglio attivare tante carte magia, altrimenti non superiamo i 10.000 con il nostro cerbero e siamo fregati. Quindi, mandiamo il riroku via, mandiamo il corno dell'unicorno via, mandiamo un controllo avversario via, anzi no, sapete che faccio? Le mando tutte via, anche se potrei evitare, però vabbè, le mandiamo tutte di nuovo nel deck, anche perché la maggior parte non mi servono e spero nella spada maledetta. Perfetto, spada maledetta c'è, attiviamo la spada maledetta sul nostro cerbero, attiviamo l'effetto della spada maledetta e guardate un po', ci riprendiamo la spada di bambù classica e la rigiochiamo semplicemente per pompare il nostro mostro ulteriormente. Quindi il nostro mostro diventa un 6900 al momento ma nei prossimi turni lo portiamo fino a diciamo il 10.000 che ci serve per fare i danni. Il nostro avversario praticamente sta giocando al suo secondo terzo turno quindi non ha proprio le possibilità di contrastarci. noi abbiamo già concluso il deck quindi veramente cosa eccezionale. Nel cimitero abbiamo tutte e tre le spade dorate yes quindi scartare la spada maledetta non ci porta veramente a nulla. Che cosa faremo? Andremo ad attivare la spada e andremo cioè ad attivare l'effetto della spada e andremo a fare un po' di cosucce. Cosa possiamo fare? Posso attivare il maio magico vi dico che nel prossimo turno già abbiamo concluso il duello però voglio comunque fare quante più cose possibili. Mando semplicemente guardate un paio di corni dell'unicorno ma così perché tanto non ne ho bisogno di buttare niente era giusto per attivare esatto un'ulteriore carta rigiochiamo la spada di bambù e niente abbiamo pompato ancora e ancora il nostro mostro e possiamo terminare qui prossimo turno abbiamo concluso e vinto il duello come noi volevamo quindi questo è tutto il meccanismo che dobbiamo utilizzare spero semplicemente che non giochi la carta quella là la fusione tramite vincolo del potere lì non mi ricordo ok no fa la fusione con il mostro con l'effetto del mostro sì ok sì polimerizzazione va benissimo va benissimo così anche se mi fa il chimeratec non potrebbe non dovrebbe superare il mio punteggio ma se anche lo supera sappiamo come contrastarlo è diventato un 3002 quindi vedete non ci può fare assolutamente niente tutte le carte via ok gioca ancora una carta veramente tutte cose al limite della disperazione per il nostro avversario va bene ok ci ha pompato anche lui il mostro perché poi c'è anche da dire questo che il nostro avversario gioca molte magie quindi ci va a pompare il nostro mostro ma la cosa che c'è da dire principalmente è che abbiamo concluso il duello quindi riprendiamo in mano la nostra carta equipaggiamento quindi già il cerebro può attaccare direttamente in più andiamo a giocarci ricerca della pietra magica andiamo a scartare una spada e e sì direi di scartare anche quest'altra spada di bambù che tanto non giocherò più e andiamo a prenderci spada dorata cioè spada di bambù dorata ecco qui quindi pompiamo ancora e ancora il nostro mostro giochiamo la spada di bambù e andiamo a finire completamente il nostro deck perfetto adesso devo semplicemente giocare tutte le carte più che altro foil per avere un punteggio massimo e vi farò vedere che veramente con un pochino che il deck era rarizzato in più avrei concluso questo qui è il controllo avversario foil purtroppo quindi li dovrò giocare tutti quanti ecco qui andiamo a spostare il chimera tech in posizione di attacco va bene andiamo a giocarci il riroku ma già abbiamo oltrepassato il punteggio che ci serviva quindi via anche il chimera tech andiamo a pompare ulteriormente il nostro cerbero ecco qui quindi posso anche non giocare più niente sinceramente potrei anche arrivare al massimo punteggio ma vabbè facciamolo ci troviamo vediamo un po' quanto riusciamo a fare arrivare questo nostro cerbero quindi attiviamo ancora una volta il controllo avversario ok quindi fuori il chimera tech ancora una volta andiamo a giocarci il corno dell'unicorno il nostro mostro è salito al di sopra dei 15.000 ecco qui battle phase attacco diretto 15.900 danni praticamente quasi 16.000 danni diretti al nostro avversario quindi vittoria fatta veramente raga è una cosa che farete sempre sempre deck buonissimo l'unica cosa che dovete averlo più rarizzato di quanto ce l'ho io quindi velocemente andiamo a vedere un po' che carte ci ha dato guardate raga 7.500 perché abbiamo il bonus campagna ovviamente quindi mi basta avere 5 solo 5 carte rarizzate con diciamo neanche prismatiche mi servono foil semplicemente altre 5 carte e otterrò gli 8.000 punti di giudizio duello quindi raga io mi sento di dire che questo deck ci porta a farmare a 8.000 anche se a me non mi ci porta però può essere che a un'altra persona che ha fatto questo deck e ce l'ha leggermente ma veramente leggermente più rarizzato arriva agli 8.000 quindi questo deck farming è un deck da 8.000 per chads per zain scusatemi in questo in questa occasione detto questo niente spero che il video vi sia piaciuto spero che se anche stavate farmando con qualche altro deck questo vi possa essere utile o vi possa dare qualche spunto e niente detto questo come al solito vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo con il prossimo bella raga grazie a tutti